e il punto zero rullo di tamburi è di la verità nel col nel curriculum io mi dissocio dalla verità che fammelo prima di dissociarti del tutto fammelo declinare meglio se dici che sai fare quella cosa devi saperla fare davvero quindi il discorso di lavora sulla tua skill hard cioè quello che vendi che sai fare oltre che sulle soft quella quello che per cui ti vendi devi saperlo fare davvero i miei migliori colloqui li ho superati mentendo no ma allora un esempio perché poi si deve mentire su tutto cioè ci deve essere sempre una base di competenza che era appunto di partenza cioè tu devi essere come ha detto tu competente in quello che fai poi dopo ci sta magari qualcosina la racconti in maniera diversa qualcosa sì cioè vendersi bene significa vendersi bene il punto tutto Sì